Ti farò vedere io! Vedremo! Combattete! Occhio al colpo! Ecco che arriva! Ragazze! Ragazze! Basta! Pulite tutto! Venite qui voi due! Punizione! Non vivrò mai nella tua stessa stanza! Sarà un incubo! Questo brutto sacco della spazza... Ragno! Un ragno gigante! Ehi! È solo un ragno! Me ne libererò subito! Dov'è? Ecco qui! Addio, ragno! Oh, signor Beam! L'hai quasi ucciso! Guarda! Il colore è così fantastico! Non male! Ora sistemiamo la tua parte! Sei lontana dal mio lato! Dividerò la stanza! Questo andrà più che bene! Non oltrepassare questa linea! No, 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 no! Ok! Sono stufa di te! So io cosa fare! I palloncini la renderanno perfetta! L'ultimo! Quasi pronto! È perfetto! Bene! Così accogliente! Ti senti a tuo agio? Dì addio al tuo nuovo letto! Ops! Qualcosa manca in questa stanza! Cosa sono questi? Proviamoci ancora! Wow! Cosa sono? Oh, un'idea! Lo dividerò! Oh! Wow! Sorprendente! Aha! Sarà super figo! E ripeti cinque volte! E qualche nuvola così morbida! Oh! Wow! Così fatto! È così bello! Oh! Cosa? Ho un'idea migliore! E adesso cosa dovrei farci con questo? Oh! Figo! Ora ti appenderò! Sì! È perfetto! Oh! Oh! Pizza! Pizza! Una consiglia! Grazie! Ciao! Oh! Oh! I miei soldi! Ah! Ah! Oh! Ok! Non provare a prendere la mia parte! Oh, sì! Ora si mangia come un animale! Ehi, guarda, un dinosauro! Ma da dove? Niente pizza per Luna! Oh, sì! Cosa stai ridendo? Sliccata da Luna! Io, Luna! Il diario di Luna! Luna, ora è mio! È il mio diario segreto, dallo a me! Oh, questa è la mia parte! Guarda! Va bene, scopriamo i tuoi segreti! Oh no, Steve! Oggi l'ho incontrato a scuola! È così bello, così intelligente e così gentile! Gestiamo la cosa da adulti! Il diario di Luna dalla mia parte! Ok! Ancora! Cosmetici! Bei quaderni! Oh, una piccola chitarra! Giocattoli morbidosi! E due cuori! Ancora? Ancora, ancora, ancora! Un ragno! Un ragno! Oh, un signor, via! Oh, ok! Il mio piccolo! Un ragno! Ehi! Ehi! Calmati, ok? Ti ha spaventato, tesoro! Non voglio vivere in una stanza con te! Nemmeno io! E che mi dici di questo? Ora va meglio! Non puoi venire dalla mia parte! Nemmeno tu! Oh, ma certo! Wow! Fatto! Ah, so io cosa fare! Oh! Ops! Che cosa? Oh! Qualcosa di interessante! Che cos'è? Stupido pop-it! Wow! Le mie cose preferite! È tempo di diventare creativi! Che cosa? Ma come? Wow! La mia bellissima stanza! Cosa posso fare? Stupendo! Lo sistemerò! Oh no! Lo rovinerà! Ok! Risolviamo la cosa da adulti! Affare fatto! Cosa mi darai in cambio? Oh! Ciao, signor scheletro! Sul serio? Ancora! Che cosa? Ok! Ancora! Ok! E che mi dici di questo? Ancora! 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 Cos'altro? Oh! Forse è questo! Oh! Voglio questo! Sì, sì, sì! Oh! Che carino! Sei seria? Il mio amore! Tesoro! Dove sei? Oh! Oh! Eccoti! Oh! Mi sei mancato! Che cosa? Meno male che viviamo su due lati diversi! Vabbè! Guarda questo! Ah! 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 Diventerai popolare! Che cosa? Guardati su internet! Oh! Non otteresti! Eh no! Le regole sono le regole! Ciao, ciao! Devo liberarmi dello stress! Oh! Lily! Cosa puoi? Ruby! Fa niente! Ehi! Stai bene? Cosa? Era solo uno scherzo! Riesci a essere davvero divertente, sorella! Sei pronta? Sì! Basta litigare! Sì! Sei pronta? Super pronta! Com'è talentuoso! Serve aiuto? Occhio dove metti i piedi! Comunque sia, è stato bello! Non mettermi di nuovo in imparazione in questa squadra! Questa giornata può essere ancora meravigliosa! Tutte le mie cose! Geniale! Ora posso concentrarmi! I perdenti si siedono in prima fila! Ok! Bene! Possiamo condividerlo a pranzo! Dov'è la mia gomma? Oh, io lo so! Se avviene sempre un po'! Che cos'è quello? Ah, gomma! Oh, io lo so! Oh, io lo so! Oh, io lo so! Oh, io lo so! Sì, sì! Certo! Prendete pure! Quelle sono le mie gomme! Buongiorno, studenti! Questa è per lei! Oh, sono a dieta, ma grazie! Ruffiana! Oh, ragazzi, oggi ci prepariamo per il test! Il test riguarderà il capitolo 1 che parla degli organismi! Le matite non devono mancare mai! Tutto quello che c'è sulla lavagna sarà sul test! Un test! Devo trovare una penna! Potrei essere un ingegnere! Quasi esaurita! Di sicuro supererò il test! Fareste meglio a finire di scrivere! Sì, perché è l'ora di chimica! Perché ci ho perso tempo? No! Chi può risolvere questa equazione? Forse tu stai bevendo! Io, prof, io, io. Tu! Sì? Luna? Cosa? Devi andare alla lavagna. Risolvi questa equazione. Dov'è il mio telefono? Non è qui. Cosa stanno facendo? Pronto? Sì, arrivo subito. Sto arrivando. Non fate casino. Il preside ha bisogno di me. Sì, signor preside. Libertà! Ragazzi, fermatevi. L'insegnante tornerà a breve. Perché hai interrotto la nostra festa? Luna? Torna al tuo posto. Ok. Sì? Un giorno sarò un'astronauta. Sei pronto, Chris? Facciamolo. Cos'è questo rumore? Ehi ragazzi, smettetela! Oh, ciao, Sabri! Non disturbarci, stiamo provando! Oh, è così carino! Ancora pochi secondi! Non oggi! È ora di prepararsi! Altri cinque minuti! Ah! Ah! Oh! Oh! Perfetto! Luna, preparati! Faremo tardi a scuola! Come vuoi! Odio la scuola! Vorrei non andarci! È ora di prepararsi! Fresco? Luna! Sì! Faremo tardi a scuola! Sono pronta da ieri! Ah! Ah! Bene! Siamo in ritardo! 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 Aspettate, ragazze! Un secondo! Non siete arrivate super presto! Sì! Ah sì! Ben arrivate! Cominciamo da qui! Ma che vi state ridendo, eh? Smetti! La luna! Trovate la scienza divertente! Allora facciamo un test! Subito! Questo è il test più semplice in assoluto! È così complicato! Mi aiuti un pochino? Certo! Dammi la tua mano! Grazie, sei la migliore! Che cosa? Fa niente! Lo farò a caso! Ho finito! Anch'io ho finito! Grazie, Luna! Ottimo lavoro! Fantastico! Congratulazioni, Sabi! Grazie! Tu hai un altro quattro e sarai espulsa! I miei genitori non ne saranno contenti, oh! Ehi, Sabi! Puoi aiutarmi con il test? Ehi, ragazza! Vai, io devo parlare con mia cugina! Dunque, ti piace Chris, eh? No! E tu cosa vuoi? Che mi aiuti con il test e io ti aiuterò con Chris! Ok, seguimi! Ah, puoi andare qui? Ok! Risolvi questo! Ehm... 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 Sei sicura? Ah, e ora il tocco finale Ora capisco Adesso sei una cattiva ragazza Esercitati Cosa dovrei farci con questa? Allora, come sono andata? Penso che tu sia pronta Puoi farcela Provaci, vai, vai, vai Sì? Ora sì? Sta attenta È un nuovo look? Ti piace il nuovo look? Ad essere onesto Preferivo la sabbia originale È una stanza segreta? Wow, incredibile Wow, rilassati È solo un ragno Devo pulire tutto quanto Non si fanno le pulizie nella mia stanza No, è la mia stanza La mia stanza sarà la migliore Non posso perdere Cosa dovrei prendere? Oh, ecco cosa stavo pensando Questo mi serve Ho bisogno di tutto questo Che cosa? È vuoto Joker Devo portare qualcosa Oh, sciocca Dovevi solo prendere la bottiglia Grazie Grazie La vita è perfetta Che peccato Bene Bene Ho finito Ti farò vedere io Amore mio Chi sarà? Sono pronta Era uno scherzo Una perdita di tempo Voglio andarci anch'io Sono pronto Fermo Ehi Sono figo Fermo Vuoi ancora entrare? No, no, no Ho un'idea Andiamo Andiamo Ehi, sono il fattorino Ok Ah, splendido Cosa? Ho fallito Ma che Le farò uno scherzo Che cosa? Ah Vuoi giocare? Ok Prendi questo Sarà divertente Sarà divertente È per te Grazie Ehi Ma stai scherzando? Che succede? Pace? Pace Sì Chissà Ehi